Ci racconta il suo primo incontro con il cittadino onorario Luigi Robusto? A dirilbero il primo incontro è stato un incontro telefonico nel periodo di Natale dell'anno scorso perché sapevo che lui veniva ad Atri una volta all'anno e quindi lo avevo chiamato perché avevo curiosità di conoscerlo. Poi in realtà quell'incontro c'è stato qualche mese dopo per altre vicissitudini, non ad Atri tra l'altro ma sullo stretto di Messina a dirilbero. Un onore avere come cittadino onorario generale di Corpo d'Armata? Un grandissimo onore, per me una grandissima emozione proprio per quello che è stato l'uomo Luigi Robusto che ha dato grandissimo lustro alla città di Atri e che si è portata sempre nel cuore. Basta sentirlo parlare di Atri per capire quanto veramente se l'è portata dentro negli ultimi 50-60-62 anni, cioè da quando l'ha lasciata all'età di tre anni. Il lustro naturalmente viene da quello che è stato Luigi Robusto come uomo e a livello professionale perché ha portato il nome di Atri tra le più alte cariche dello Stato e soprattutto nell'esperienza della lotta alla legalità. Appunto ieri lui ha fatto un discorso molto importante in una scuola di Teramo, la Falcone e Borsellino. Potrà avvissare anche nelle scuole di Atri ovviamente? Sicuramente le scuole di Atri, sento di dirlo io a nome dei dirigenti scolastici, sono a disposizione per la testimonianza di questa grandissima esperienza che lui si porta dietro. Ieri naturalmente è stato molto toccante, soprattutto per i giovani, perché quando ha parlato ha parlato ai giovani, è riuscito a tenere alta l'attenzione dei ragazzi, cosa che non è semplice, questo lo dico da insegnante, per un intervento che è durato oltre un'ora.